Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museum In questa puntata andremo a recensire e faremo anche l'unboxing di un altro Power Bank L'abbiamo acquistato esattamente in un negozio di bigiotteria, chiamiamolo così Che è praticamente venduto a 25€ o qualcosa del genere Però sono riuscito a farlo abbassare fino a 15€ Infatti ce l'ha lasciato, praticamente ce l'ha tirato addietro Innanzitutto questo caricabatterie possiamo notare da subito che è un caricabatterie anche da 2A Cioè esteticamente tutto assomiglia molto a uno da 2A Infatti è così perché si può ricaricare oltre che al telefono anche tablet, iPad e molte altre cose Qui c'è scritto che praticamente si possono fare oltre 500 cicli di ricarica Anche se la vedo un po' dura Alta capacità, ultra height, efficiti Quindi praticamente abbiamo un'alta efficità di funzione del nostro Power Bank Il nostro Power Bank è da 15.000 Ampere orari Che già qui mi sembra un po' strano 15.000 dovrebbe essere il triplo della grandezza Anche perché ci sono i negozi che soprattutto vengono venduti 70-80€ Per 15.000 mAh Quindi mi sembra molto strano Però andiamo ad aprire la nostra confezione Ci troviamo un cavetto con uno smile Uno smile sul cavo USB Con attacco per iPhone, iPod di quarta generazione Cavo micro USB per l'attacco Samsung o altro Attacco per iPhone 5, quindi nuovo attacco E poi mancano alcuni cavi, però va bene E poi il nostro Power Bank Che è praticamente appunto come stavo dicendo prima È un Power Bank a tutti gli effetti Anche se praticamente qui altre cose che non tornano Che adesso vi vado a dire Allora innanzitutto come vedete C'è una presa che va a 1A e una da 2A Quindi praticamente finora è praticamente tutto normale A parte per esattamente i... Come si chiamano? Ad esempio i 15.000 appunto che stavo dicendo prima E poi i 44 Watt orari Vabbè Andiamo a vedere un po' in generale adesso Le sue caratteristiche tecniche Quindi andiamo a vedere un secondo come funziona L'attivazione è semplicissima Basta premere su questo qui In teoria non si è ancora capito bene Se devo tenere premuto Quindi in questo caso si è attivato tenendolo premuto Sul display apparirà la cifra con su scritto in out input o in input Quindi ci dirà se è in out input Quindi in uscita oppure in entrata Oltre a questo ci sono appunto due prese USB 2.1 e 1.0 in più quella di ricarica Oltre a quello c'è anche una fantastica torcia Che non illumina praticamente in nulla più totale Questo è un secondo il caricabatterie in generale Quando noi andremo a ricaricare ad esempio un qualcosa Quindi ad esempio io voglio ricaricare quest'altro powerbank Perché chiunque caricherebbe un powerbank con un altro powerbank Se noi andremo ad agganciarlo Praticamente ci risulterà che adesso lui sta ricaricando Con i 5V 1A come vedete In mentre se noi stacchiamo Andiamo ad attaccare nell'altro Adesso ci dirà 5V Adesso proviamo a riaccendere la luce Che sennò impazzisce la telecamera 5V 2.1A Come vedete sta ricaricando perfettamente Quindi ve lo consiglio Però mi raccomando non fatelo Prendere a tanto Anche perché alla fine non varrà tanto la spesa Anche perché se fate conto Questi powerbank costano esattamente 10€ su internet Che arrivano dalla Cina Quindi vabbè La puntata finisce così Però state attenti ai powerbank che comprate Grazie ancora E alla prossima puntata